Allora ragazzi, Sallusti ha perfettamente ragione. Nel panorama internazionale la regola è sempre la stessa, la usavano addirittura i latini. Se vuoi la pace, preparati a fare la guerra. Questo non significa che uno armandosi provochi un conflitto, perché il pacifismo stile hippie non porta da nessuna parte, anzi, essere una nazione disarmata è come quando tu, padrone di casa, esci dalla tua abitazione e lasci la porta aperta. Può succedere che non accadrà niente per una, due, tre volte, ma stanne certo. Prima o poi qualcuno se ne approfitterà ed entrerà in casa tua diventandone il padrone. Quello che ha detto Michel è una delle regole del mondo da meno duemila anni. i latini l'avevano semplificata, se vuoi la pace, prepara la guerra. Noi nel 1938, noi europei, nel 1938 non ci siamo ricordati di quella legge fondamentale, come una legge della fisica, cioè non è discutibile. Non ci siamo preparati alla guerra con Hitler e non abbiamo avuto, ovviamente non abbiamo avuto la pace. Quindi io dico che noi europei abbiamo perso un altro concetto basilare che è la pace, che la libertà ha un costo. Siccome la pace coincide con la libertà, sia la libertà che la pace hanno un costo e quel costo è un costo nella difesa. Noi non credo che nessuno in Europa voglia potenziare gli eserciti per andare a fare la guerra a qualcuno, ma voglia potenziare gli eserciti per due motivi. Uno, per difendersi in caso di attacco. Stasera il ministro Crosetto in questa trasmissione ha detto che l'Italia non è in queste condizioni, cioè che se Dio non voglia, qualcuno pensa di attaccarci, troverebbe e entrerebbe in Italia come nel burro. Prima di continuare con il video però vi chiedo un favore di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video. Cosa aspettate? Uso peraltro e due per potersi sedere a un tavolo di pace con quella forza che solo la forza militare ti dà, con quella forza politica che solo una forza militare ti può dare. Quindi questo pacifismo così teorico, bellissimo, chi è che di noi non è pacifista o vorrebbe un mondo di pace? Però sta diventando pericoloso. In questo senso Michel, una volta tanto, credo abbia ragione. Capozzo e poi concludiamo con Cristina. Guarda, credo che…